Flavia Pennetta e Roberta Vinci Per l'annuale cerimonia di consegna delle benemerenze sportive alla quale ha partecipato anche il segretario generale del CONI Roberto Fabricini Quasi 130 i premiati fra atleti e società, la serata è stata aperta dall'esibizione delle farfalle azzurre di ginnastica ritmica Fra queste anche la giovinazzese Marinella Falca che con le sue compagne conquistò l'argento alle Olimpiadi di Atene Alla fine del gala è il momento più atteso con la consegna del premio Radice di Puglia alle due campionesse entrate di diritto nella storia sportiva del tennis italiano E non solo, amiche rivali, Pennetta e Vinci ma soprattutto orgoglio di un'intera regione Stasera parlo anche per Roberta perché comunque so che lei la pensa come me, è bellissimo perché comunque noi giriamo tanto il mondo, siamo sempre in giro Però alla fine questa è la nostra terra, siamo legatissime alla Puglia, siamo onorate di portare in alto il nome dell'Italia e della Puglia in mondo E di essere qui stasera con voi perché è un bellissimo piacere anche per noi Come ha detto Flavia, bello ritornare qui in Puglia, come dice lei giriamo tanto il mondo però casa è casa Come ha detto Flavia, bello ritornare qui in Puglia, come dice lei giriamo tanto il mondo, siamo sempre in Puglia, come dice lei